in formato gigante che si presenta così sul Charalambides dopo appena un minuto. Poi Triciowski manda alto sulla respinta. L'ex di Juvenes Dogan nella fiorita si ripete al settimo quando André Alves si gira in un fazzoletto, calcio a botta sicura ma si trova ancora un super Montanari. Al decimo forse la parata più difficile sulla punizione laterale di Johan Tomas il colpo di Reni vale ancora lo 0-0. Dove non arriva Montanari ci pensa un po' la fortuna come al diciottesimo quando la traversa respinge la conclusione di Johan Tomas che è già un gol fatto. Poi la Folgore si aggiusta, copre gli spazi e l'Arnaca fa più fatica a infilarsi. Allora una mano ci pensa a darla Taudul. Il portiere dell'Arnaca rinvia sui piedi di Traini un pallone comodo comodo che l'attaccante della San Maurese controlla, sistema e poi va a depositare in porta dopo aver saltato il portiere. La Folgore al 34esimo del primo tempo è avanti 1-0. Nella ripresa l'Arnaca aumenta i giri, passano appena 24 secondi e l'Aban non può credere ai suoi occhi quando Montanari compie l'ennesima parata di serata. Sembra tutto perfetto, magari la serata giusta per fare un po' di storia. Invece André Alves si inventa il colpo di tacco smarcante per Triciowski che arriva a Rimorchio. Qui Montanari non ci può fare davvero nulla. Tre minuti dopo è sorpasso, quando sul cross è dalla destra ancora André Alves, ancora di tacco, libera sul secondo palo ancora Triciowski per il sorpasso l'Arnaca. La squadra dello spagnolo Imanol Idiazzec la mette in ghiaccio al diciottesimo. Un altro errore favorisce André Alves che si va a costruire il cross che deviato dalla mano di Ginestreti vale il rigore. Sul dischetto ci va lo stesso André Alves che fa 3-1 anche se Montanari intuisce e sfiora il pallone. Tre gol subiti come all'andata dagli stessi giocatori. Al fischio finale è un 3-1 più che onorevole ma che lascia un po' di amaro. Non sarà una pagina di storia ma un paragrafo di certo. La Folgore segna la quinta rete in quattro partecipazioni alle Coppe Europee con Traini che si prende la soddisfazione di segnare la sua seconda rete in campo internazionale.